Il cervello estende la percezione del corpo agli strumenti che tenevo in mano. A dirlo è uno studio pubblicato su Current Biology realizzato da un gruppo di ricercatori internazionali al quale hanno partecipato anche ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca. Sensazioni tattili come se fosse una parte del corpo è quello che percepisce il cervello quando ha in mano uno strumento che viene sollecitato esternamente. A dirlo è uno studio appena pubblicato su Current Biology realizzato da un gruppo di ricercatori internazionali al quale hanno partecipato anche ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell'Università Bicocca di Milano. 16 persone hanno stretto tra le mani un bastone che veniva sottoposto a impatti esterni e tutti i partecipanti sono riusciti a localizzare l'impatto con una precisione quasi perfetta come se il tocco avvenisse sul braccio. Contemporaneamente i ricercatori usando l'elettroencefalografia hanno scoperto che la posizione dell'impatto sullo strumento veniva decodificata attraverso la dinamica neurale della corteccia somatosensoriale primaria e dalle regioni paritali posteriori, le stesse che si attivano quando il contatto avviene direttamente sul corpo. Lo studio ha dimostrato che il nostro cervello applica la percezione tattile del corpo ad un oggetto come fosse un'estensione dello stesso corpo umano.